Una grande gara perché chiaramente dovrò rivederla ma la prima impressione abbiamo concesso poco però in quelle due occasioni il secondo tempo nonostante Sommer non abbia fatto parate abbiamo concesso quelle due palle, una a Lino e una colpo di testa di Morata però la squadra avrebbe meritato chiaramente per quello fatto, per quello visto un punteggio più rotondo per un allenatore penso a vedere giocare una squadra così ma non è da stasera, è da tantissimo l'Inter è tantissimo tempo, anche due anni e mezzo fa sono molto soddisfatto dei ragazzi di quello che stanno dando dobbiamo continuare, adesso abbiamo fatto una striscia di nove vittorie ma sono stati importanti ma non importantissime perché i mesi più importanti sono marzo-aprile dove andremo a giocare tanto